Ben trovati dalla nostra redazione. Leggiamo subito i titoli di oggi. Depositato e ricorso al TAR dell'ex sindaco messinese. Incidente sulla Gela Catania, ferito un centauro gelese. Chiuse le indagini sull'omicidio peritore, le accuse al cognato Giuseppe Cinardi. Gli investimenti sul territorio e nel mezzogiorno. Seminario al Teatro Eschilo. La sicurezza è un bene comune. L'appello del comandante dei carabinieri Antonio De Rosa. Il Gela e i portici per fare il risultato. Pronto al debutto il centrocampista Andrea Burato. Ancora fuori Bonanno e Montalbano. Ben trovati dal nostro telegiornale. Saranno i giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo di Palermo a valutare il ricorso che il sindaco sfiduciato è deciso di presentare contro la mozione dello scorso 7 settembre. Adesso si attende solo la data dell'udienza. Il servizio è di Rosario Cauchi. Nessun passo indietro dell'ex sindaco Domenico Messinese. Giovedì è stato depositato il ricorso presentato contro la mozione di sfiducia che lo scorso 7 settembre ha decretato la fine anticipata della sua esperienza amministrativa in municipio. Il ricorso prodotto dall'avvocato Antonietta Sartorio, che assiste all'ex primo cittadino, è stato assegnato alla prima sezione del Tribunale amministrativo di Palermo. L'udienza di trattazione potrebbe tenersi entro la fine di ottobre. Una data utile può essere quella del 25 ottobre. Il legale di Messinese contesta la legittimità delle procedure che hanno condotto al voto del 7 settembre. Nel ricorso vengono messe in dubbio anche le motivazioni politiche che hanno decretato il via libera alla mozione. Nel giudizio si costituiranno anche il comune, come ha deciso il commissario Rosario Arena, e consiglieri comunali chiamati in causa dal primo cittadino sfiduciato. I giudici della prima sezione saranno chiamati a valutare da subito la richiesta di sospensiva che se accolta bloccherebbe gli effetti della sfiducia, consentendo a Messinese di ritornare in municipio in attesa del giudizio di merito. Erano troppo gravi le conseguenze del violento impatto. E' morto il settantenne Rosario Palmieri, investito da un'auto nella zona industriale ex Asi. L'uomo, in condizioni critiche, già dieci giorni fa era stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania e ieri sera il decesso proprio al nosocomio Etneo. Dopo l'incidente che ha coinvolto l'autotrasportatore, i poliziotti del commissariato hanno avviato le indagini. E' fuori pericolo il centauro gelese che questa mattina è stato coinvolto in un incidente sulla Gela Catania. E' stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Per lui 40 giorni di prognosi. Vediamo. Quadro clinico in evoluzione prognosi ancora da definire per il centauro che è in sella a una moto-onda di grossa cilindrata, si è scontrato intorno al tardo pomeriggio di oggi con il conducente di una Fiat 500. Il sinistro è avvenuto al chilometro 33 circa della statale 417 Catania Gela, in territorio di Mineo. Il centauro, proveniente da Catania, proseguiva la marcia in direzione Caltagirone, quando, per causa ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrato con l'utilitaria, finendo rovinosamente sull'asfalto. La Fiat 500 viaggiava in direzione opposta a Catania. La ricostruzione relativa dinamica sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Mineo, unitamente ai militari della Compagnia di Palagonia, che dovranno accertare cause e responsabilità. Il bilancio è quindi di due feriti, di cui il centauro, che viaggiava in sella alla Honda, è stato a soccorso, stabilizzato e trasferito con l'ambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Al momento dello scontro era cosciente. Il conducente dell'utilitaria è stato invece soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Gravina di Caltagirone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Catania Sud, oltre al personale della sezione compartimentale dell'ANAS di Catania, che hanno provveduto a bonificare la sede stradale dagli oli esauti. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro, in entrambi i sensi di marge. A quasi un anno dai fatti di via Attica, i PM della Procura hanno chiuso le indagini scaturite all'omicidio del 33enne Maurizio Peritore, raggiunto da diverse coltellate al corpo. Giuseppe Cinardi ha ammesso di averlo colpito, ma solo per difendersi. Adesso i magistrati potrebbero chiederne il rinvio a giudizio. Vediamo il servizio di Rosario Cauchi. Nel novembre di un anno fa ha ucciso il 33enne Maurizio Peritore, trovato senza vita tra le palazzine popolari di Via Attica. I PM della Procura hanno chiuso le indagini nei confronti del 51enne Giuseppe Cinardi e accusato non solo dell'omicidio del cognato, ma anche del ferimento della moglie della vittima. L'indagato si sarebbe scagliato contro il 33enne impugnando un coltello. Una lite scaturita da un periodo di forte tensione tra i due, anche Peritore si sarebbe presentato con una lama. Fatali sarebbero state le ferite riportate dopo che Cinardi lo colpì. Da quanto emerso durante l'incidente probatorio dello scorso marzo, chiesto e ottenuto dal legale di difesa l'avvocato Salvo Macri, la morte sarebbe stata causata da una coltellata che raggiunse il polmone. Anche il 51enne venne ferito in diverse parti del corpo proprio durante la colluttazione. Da quanto ricostruito dagli investigatori, la lite tra i due si sarebbe accesa dopo che Peritore si accorse che i pneumatici della sua auto erano stati tagliati. Slitta al prossimo aprile, l'udienza del dibattimento aperto davanti ai giudici del Tribunale di Catania nei confronti dell'ex presidente della regione Rosario Crocetta. E' accusato di diffamazione. L'ex sindaco accusava Saverio Di Blasi, presidente dell'associazione Aria Nuova, di essere al soldo della mafia. L'ambientalista presentò una denuncia e il caso è arrivato a dibattimento. Il giudice Teneo ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile formulata dall'avvocato Nicola Condorelli-Caf nell'interesse di Di Blasi. Crocetta, invece, è difeso dall'avvocato Vincenzo Del Re. Per fatti analoghi, ma legati ad un comizio in piazza Umberto I ottenuto durante la campagna elettorale delle amministrative 2015, l'ex presidente è a processo pure davanti ai giudici del Tribunale di Gela. Risponde sempre di diffamazione per aver accusato Di Blasi e un altro ambientalista di essere vicine ai personaggi della criminalità locale. Un anno e otto mesi di reclusione ad una quarantenne e un anno e quattro mesi all'altra imputata appena ventenne. Il giudice Mari Camarino ha ammesso il proprio verdetto nei confronti di due cittadine romene arrestate negli scorsi mesi in città mentre tentavano di rubare all'interno di un supermercato nella zona via Venezia. Le due donne, per il tramite del loro regale, hanno deciso di essere giudicate con rito abbreviato. Il PM Sonia Tramontana ha chiesto due anni di reclusione ciascuna. Insieme ad altri due complici, tutti dello stesso nucleo familiare, le donne erano entrate nel supermercato, cercando poi di allontanarsi con diversi generi alimentari nascosti sotto i vestiti. A fare saltare il piano, l'intervento di una poliziotta libera da servizio che si trovava all'interno del market. Gli altri due imputati verranno giudicati con rito ordinario. Gli investimenti sul territorio nel tentativo di non perdere altro terreno sul fronte di uno sviluppo mai tanto difficile. Il Lions locale ha organizzato un incontro che si è svolto stamani al Teatro Eschi. Lo vediamo. La globalizzazione ha portato ad un incremento della mobilità di capitale e delle attività economiche mettendo in forte competizione i territori. Oggi parlare di sviluppo del territorio vuol dire implementare azioni che valorizzano le eccellenze e le risorse del tessuto economico-sociale. Di questi e di altri temi si è parlato stamani durante l'incontro dibattito organizzato dal Lions Club di Gela alla presenza dei rappresentanti del mondo delle imprese, delle istituzioni, della finanza e delle università che si sono confrontati con i giovani studenti con l'obiettivo di condividere e suggerire strategie, strumenti e azioni per attrarre investimenti. Il Sud, il Mezzogiorno, ha bisogno di una iniezione di capitale umano fortissima. Fortissima affinché ci sia un'adeguata attrattività degli investimenti, un ritorno alle opportunità di sviluppo. Questa iniezione di capitale umano necessita quindi, perché no, anche dei nostri giovani che pur in questa fase non trovando nulla nella nostra area si specializzano altrove, diventano dei numeri uno altrove per poi ritornare. Quella che stiamo vivendo non è una crisi, perché a parte che ormai dura da parecchi anni, da 2007 in poi che viviamo questo periodo di difficoltà, ma è proprio le politiche economiche che sono state attuate di stampo liberale che sono sbagliate. Queste politiche di austerità, questo pensiero, questa idea di austerità espansiva che è una contraddizione in termini, nel senso che l'austerità non porta a nessuna espansione. E quindi dicevo che se non c'è un cambio di mentalità, se non c'è nuovamente un cambio di orientamento del pensiero economico, parleremo per i prossimi 30 anni sempre di crisi. Temi importanti in un periodo di crisi, ma con la speranza di non perdere altro terreno sul fronte di uno sviluppo mai tanto difficile. Abbiamo voluto organizzare questo convegno proprio perché in questo momento di crisi della nostra città vogliamo un pochettino stimolare le coscienze a riflettere sul territorio per rilanciare il nostro territorio. La sicurezza è un bene comune, questo è l'appello fatto dal comandante del reparto territoriale di Gela, colonnello Antonio De Rosa, intervistato ai nostri microfoni. Vediamo. Educare alla legalità, alla sicurezza e al confronto con le forze dell'ordine a partire dalle singole famiglie alle scuole. Si sa l'argomento è complesso, sensibile, le posizioni dei cittadini potrebbero essere contrastanti. La sicurezza è un bene comune, questo è l'appello fatto dal comandante del reparto territoriale di Gela, il tenente colonnello Antonio De Rosa, intervistato ai nostri microfoni. I carabinieri non sono fine se stessi, sono gente tra la gente, sono gente voluta dalla gente e quindi la sicurezza non è un bene dei carabinieri, la sicurezza è un bene collettivo cui ognuno per quanto compete deve dare il suo contributo. E questo può passare soltanto attraverso la maturazione di una cultura della legalità. E' chiaro che non si chiede l'esposizione gratuita al pericolo al singolo cittadino, però avere la coscienza di far parte di una comunità e di poter dare il proprio contributo, piccolo che sia, è fondamentale perché il bene pubblico possa essere preservato e la collettività possa prosperare e proseguire in sicurezza. Sarà Fabrizio Corona a curare l'immagine di Angelo Famao, il cantante gelese, che sta spopolando nel mondo del neomelodico, con il suo brano più famoso che ha collezionato più di 18 milioni di visualizzazioni. Nel mondo della musica neomelodica, Angelo è ampiamente noto. La sua fama va oltre la Sicilia. Infatti Famao ha svolto concerti sia in Calabria che in Campania. Nella scuderia di Corona potrà aumentare la sua visibilità. L'avvocato gelese Francesco Giocolano ha curato nei dettagli il contratto proprio perché si tratta di un rapporto importante per la sua carriera. Una manifestazione per chiedere l'istituzione, l'unità dipartimentale di senologia all'ospedale di Gela. L'iniziativa è organizzata dalla Dose Italia Onlus Gela, l'associazione Donne Operata al Seno. Sarà una camminata per la senologia e si svolgerà domenica a partire dalle 9. Appuntamento all'incrocio antistante all'ospedale di Gela. Il corteo si muoverà fino in piazza Umberto I. Alla manifestazione ha dato adesione anche il nursing di Caltanissetta guidato da Giuseppe Provinzano e il segretario aziendale Domenico Corfu. L'obiettivo della manifestazione è anche quello di promuovere le pari opportunità per tutte le donne. Chiudiamo con lo sport. Il Gela ha i portici per fare risultato. Pronto al debutto il centrocampista Andrea Burato. Ancora fuori Bonanno e Montalbano. Vediamo. Seconda trasferta consecutiva per il Gela al San Ciro di Portici, i bianco-azzurri cercano conferme dopo il successo contro il città di Messina. Zeman non potrà ancora una volta contare su due attaccanti, Tommaso Bonanno e Corrado Montalbano, che soltanto alla prossima settimana torneranno ad aggregarsi al gruppo. E invece tra i convocati il difensore Mengoli. Pronto al debutto il centrocampista Andrea Burato. Non vedo l'ora di iniziare. Finalmente domenica sono a disposizione della squadra. Niente, come ho detto poc'anzi, veramente l'attesa è stata tanta e quindi veramente non vedo l'ora che tutto inizi e finalmente di poter mettere i piedi in campo. Il direttore Martello mi ha voluto fortemente, mi ha fatto capire il progetto importante che c'è in questa società. Poi oltretutto volevo una, tra virgolette, una sfida nuova. Non sono mai stato a giocare al sud e quindi di conseguenza 28 anni ho detto perché no, proviamo questa esperienza. E poi niente, anche il mister, tutto quanto, mi ha fatto capire che la società era forte, anche la squadra. E quindi ho detto non c'era un motivo per non andare, assolutamente. La squadra l'ho vista bene. Domenica soprattutto abbiamo giocato, secondo me, molto bene. Potevamo fare diversi gol in più, però siamo ancora, tra virgolette, lavori in corso. La squadra è nuova, ci vuole tempo per assestarsi e tutto quanto, però c'è il tempo perché siamo solamente la terza giornata. Pian piano le cose miglioreranno sicuramente. Non si deve temere nessuno perché noi andremo là cercando di imporre il nostro gioco, la nostra filosofia. Poi cerchiamo, anzi dobbiamo portare a casa i tre punti e poi ovviamente il campo parlerà, però noi cercheremo, come detto, di portare a casa il massimo bottino possibile. Zeman non dovrebbe apportare eccessivi cambiamenti rispetto alla gara di Messina. In difesa Mengoli potrebbe tornare titolare, con Brugalette, Sicignano al centro e Polito a destra. Con Burato nei tre di centrocampo le altre due maglie andranno a Schisciano e Mannoni. Mentre nel tridente offensivo ballottaggio tra Dieme e Sowë, mentre Ragoste e Dalma agiranno sulle corsie laterali. Il Portici non ha iniziato bene la stagione. Un punto nella gara d'esordio e pesante sconfitta all'Ocri domenica scorsa. La partita sarà diretta da Giorgio De Cicco di Lanciano, assistenti Masciale e Morea di Molfetta. Calcio d'inizio alle 15. Questo era l'ultimo servizio, per ogni approfondimento vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per averci seguito e arrivederci.